Nicola Moltini, lei critica il sindaco di Como perché dice che da un lato aumenta le tasse, dall'altro concede una serie di agevolazioni agli islamici. Il sindaco di Como continua a mettere le mani nelle tasche dei cittadini comaschi. Siamo di fronte all'ennesima stangata, l'aumento della tasi, l'aumento dell'addizionale IRPEF, aumenti clamorosi che andranno a penalizzare fortemente i cittadini comaschi, anche le fasce deboli. Quindi il sindaco di Como da un lato aumenta in maniera esponenziale le tasse a carico dei cittadini comaschi, dall'altro lato invece decide di concedere tutta una serie di diritti alle comunità islamiche, e vi compreso l'utilizzo di una palestra per il Ramadan. Così non va. Il sindaco di Como, il sindaco del Partito Democratico, si conferma un sindaco che bastona i cittadini comaschi, che aiuta e che agevola gli islamici. Esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un buon amministratore.